Carissimi Pogonotomaniaci, buonasera a tutti, buongiorno a seconda di quando guarderete il video. In ogni caso bentrovati e o bentornati sul canale di Pogonotomania, questa è la nostra rubrica 4 chiacchiere e lo spunto per il video in questione è arrivato guardando il video di un altro utente youtube non faccio nomi, non è questo il luogo adatto per parlare di altre persone, sono considerazioni del tutto personali. Ebbene in questo video veniva enfatizzato il fatto che l'esperienza insomma conta poco. Conta poco e come esempio viene proposto in questo video il confronto fra un pilota di Formula 1 e un patentato da 50 anni che magari usa la macchina solo al mattino, fa il giretto intorno a casa e non accetta consigli sul come affrontare una curva dal pilota di Formula 1. Partiamo da questo. Allora riprendo proprio l'esempio del patentato. Una persona che ha la patente da 50 anni e in questi 50 anni usa la macchina solo per fare il giretto intorno a casa non è ovviamente una persona che ha una grande esperienza di guida. Trasponendo il discorso al concetto di rasatura sarebbe come dire io ho un rasoio di sicurezza da 20 anni nel cassetto, l'ho usato 3 volte e ovviamente non posso vantare 20 anni di esperienza ma posso vantare 3 utilizzi del rasoio di sicurezza quindi non è propriamente un esempio consono a quello che è l'esperienza. L'esperienza deriva da esperire, cioè provare e mi spiace ma in tutti i campi, da quello lavorativo, a quello delle arti, a quello della rasatura, a quello della guida l'esperienza sta alla base, sta alla base di tutto l'esperienza è l'atto del provare provare ovviamente sulla propria pelle non semplicemente guardando altri e comportandosi per similitudine a quello che si è visto e questa esperienza cosa porta a livello di bagaglio personale il fatto che nel tempo si sono affrontate diverse situazioni si è imparato a risolverle e ovviamente non può non contare è assurdo anzi nel video in questione viene detto che a quanto ho capito parlando di rasatura un metro di valutazione della rasatura stessa è il BBS finale l'autore del video dice io voglio vedere quelli che hanno 20 anni di esperienza se riescono ad arrivare tutte le volte a un BBS perfetto allora tecnicamente potrebbero definirsi bravi anche qui avrei qualcosa da ridire perché se dovessimo utilizzare come metro di misura il BBS BBS totale quello che io definisco tattile e l'amico in questione dice non esiste il BBS visivo, il BBS tattile o è BBS o non è BBS vabbè soprassediamo su questa cosa ci può anche stare ci può anche stare l'importante è intendersi ora se il metro di valutazione è questo famoso BBS tattile totale su tutto il viso senza nemmeno lasciare indietro un peletto oddio io mi troverei in disaccordo per diversi motivi primo non è detto che il torsore abbia la voglia la necessità di raggiungere questo livello conosco un sacco di persone che evitano il BBS tattile per poter usufruire di un nuovo momento di rasatura per esempio il giorno successivo il giorno seguente secondariamente ci sono anche barbieri professionisti quindi che hanno la professione del fare la barba che evitano ai propri clienti il contropelo per esempio per far sì che la rasatura risulti confortevole non ci siano tagli non ci siano abrasioni in viso cosa che può benissimo succedere non è detto che un barbiere che ti lasci il taglietto non sia bravo assolutamente dipende magari della pelle io ho una pelle abbastanza robusta ci sono persone che hanno la pelle delicata basta un minimo di sovrattrazione col passaggio della lama e il tagliettino avviene quindi non è una cosa così grandiosa nella sua negatività e terzo io direi che una buona rasatura non deve avere solo come metro di giudizio il raggiungimento di questo BBS ma una buona rasatura secondo me deve essere valutata sotto un ampio spettro di di parametri per esempio a parer mio una buona rasatura è quella che non mi dà irritazioni è quella che mi dà il minor numero di tagli possibili ma l'ho detto tante volte il taglio può capitare l'importante è che non si arrivi all'irritazione e poi l'appagamento del gesto della ritualità del montaggio del sapone della scelta degli strumenti e via dicendo quindi la conclusione di tutto il discorso qual è? che non si può a parer mio togliere dal dal bagaglio di un tonsore quella che è l'esperienza d'altro canto lo vediamo lo vediamo tutti cioè più passa il tempo più si utilizzano i prodotti più si impara la gestualità più si imparano a conoscere i propri rasoi i propri saponi magari l'abbinamento pennello sapone che che non è poi così una cosa casuale molti pensano spesso all'abbinamento rasoi o lametta ma io ho sperimentato ho fatto esperienza del fatto che magari alcuni saponi lavorano meglio col sintetico piuttosto che col maiale quindi tutto un bagaglio tecnico e dicevo non si può togliere questo fattore esperienza perché secondo me ha una una grossa percentuale per quanto concerne l'esito positivo della rasatura molte volte molte volte si si fa collimare il post rasatura con l'utilizzo del sapone l'utilizzo del rasoio l'utilizzo della lametta non tralasciamo il fatto a parer mio che spesso il post rasatura quello buono come è venuta bene questa rasatura dipende anche da come abbiamo utilizzato lo strumento dalla mano dell'utilizzatore e ovviamente la mano cresce migliora col passare del tempo quindi ancora una volta con il concetto di esperienza a dimostrazione di questo il video in questione o meglio nel video in questione il soggetto ha iniziato la rasatura con un mano libera ha fatto la prima parte un pezzettino della seconda parte zona mento ha detto ma mi fermo perché non vorrei farmi male zona baffi assolutamente no ha terminato la rasatura con un rasoio di sicurezza ci può stare tutto ci può stare però attenzione andiamo alla base di questo perché non è riuscito a portare a termine la rasatura con il mano libera per mancanza di esperienza per mancanza di esperienza perché se fosse vero l'assunto iniziale per cui l'esperienza non conta nulla avrebbe preso il mano libera dato che l'esperienza non conta avrebbe portato a termine perfettamente la rasatura con un BBS tattile e a quel punto sarebbe stato vincente l'inizio del discorso dove appunto il fatto di esperire di avere anni di manualità alle spalle poteva decadere poteva decadere quindi in realtà c'è una controindicazione in termini in questo video dove appunto ribadisco viene detto che l'esperienza non conta e alla fine per mancanza di esperienza la rasatura con un certo tipo di strumento non è uscita dunque per concludere il discorso nella rasatura ovviamente ma ribadisco anche in altri campi a parer mio caspita se conta l'esperienza ma di cosa stiamo parlando stiamo parlando di noccioline no mi dispiace sono in netta controtendenza con questo modo di vedere la rasatura quindi il nostro video 4 chiacchiere termina qui fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi ci vediamo alla prossima un abbraccione a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania alla prossima ciao ciao